Grande fratello VIP 2022 fratto 2023 10 ottobre 2022 22 e 19 Patrizia Rossetti e il Waffa Signorini Aluf VIP La replica, pensavo di aver raggiunto il record Il GF VIP questa sera si è aperto con il confronto tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati Protagoniste di un duro scontro nella casa poi chiarito In un momento di rala Rossetti aveva anche mandato a quel paese Signorini questa sera ha replicato Pensavo di aver raggiunto il record con la Bruganelli Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande fratello VIP 2022 fratto 2023 Attiva gli aggiornamenti Alfonso Signorini ha aperto questa sera una nuova puntata del Grande fratello VIP con la furiosa lite tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti Le due VIP, dopo la puntata del 6 ottobre, hanno avuto un forte scontro in casa, perché lei dorme nella stanza sola io no? Ha lamentato la Rossetti prima di mandare a quel paese il conduttore del reality Il giorno dopo le scuse e un abbraccio hanno lasciato da parte le incomprensioni Stasera Signorini le ha messe faccia a faccia per un confronto finale Il confronto tra Pamela e Patrizia Pamela Prati, dopo aver visto il filmato che racconta dello scontro con Patrizia Rossetti poi chiarito, ha confessato alla sua inquilina di essere rimasta delusa dalle parole che le sono state urlate contro Le parole che mi hai detto mi hanno fatto male ma ho apprezzato le scuse ha detto la subred Poi la replica della conduttrice e attrice, dopo il confronto tra le due donne, ha concluso Alfonso Signorini ricordando del baffa consegnatogli dalla Rossetti nel momento di furia, pensavo di aver raggiunto il record con la Bruganelli, ora anche tu mi mandi a fanclò Carolina Marconi contro Patrizia Rossetti e Vilma Goic, marce nel cuore Carolina Marconi è intervenuta nella questione dopo essere stata accusata di essere falsa Lei si mette in competizione continuamente, vede sempre chi ha il vestito più bello, chi è truccata meglio, chi mangia cosa Tutti collaboriamo, non abbiamo la tranquillità di mangiare o bere un caffè che c'è lei dietro che ti tira le cose da mano le parole della Geffina Così è scoppiata la lite in salotto, tu non mi hai mai chiesto come stessi, mi sono sentita dire cose dietro per questo dico che siete false La replica della Rossetti. La Marconi è stata tirata ancora in ballo perché contraria al comportamento di Vilma Goic e Patrizia Rossetti, le ha incolpate in una clip mandata in onda di essere marce nel cuore, termine poi ripreso da Signorini Ha esagerato Carolina ha commentato il conduttore, chiedo scusa ha concluso la VIP